Nel prossimo video c'è un banale errore di calcolo. Nel calcolare la velocità dell'onda che corre sulla superficie dell'acqua mi sono dimenticato di estrarre la radice quadrata. Quindi la velocità dell'onda prima e dopo incontrare questo gradino non è 7,84 e 2,94 cm al secondo ma 28,0 e 17,1 cm al secondo. Tuttavia non ho modificato il video successivo e il video successivo quindi ha i valori sbagliati ma il procedimento è corretto. Ho lasciato i valori sbagliati immaginiamo di doverli correggere con questi altri valori.